Di Giovanni Verga, Mastro Don Gesualdo, voce di Lorenzo Pieri, seconda parte, capitolo quinto, parte prima. Don Nini aveva sperato di tenere segreto il negozio, ma sua madre da un po' di tempo non si dava pace, vedendolo così mutato, dispettoso, sopra pensieri, col viso acceso e la barba rasa ogni mattina. La notte non chiudeva occhio al manaccando dove il suo ragazzo potesse trovare i denari per tutti quei fazzoletti di seta e quelle boccettine d'acqua d'odore. Gli aveva messi alle calcagna Rosaria ed Alessi, interrogava il fattore e la gente di campagna, teneva sotto il guanciale le chiavi del magazzino e della dispensa, come le parlasse il cuore, poveretta. Il cugino Limoli era arrivato a indicarle la signora Agle che scutrettolava tutta in fronzoli. La vedete? È quella lì. Che ve ne sembra, eh, di vostra nuora? Siete contenta? Proprio come le avesse lasciata la jettatura Don Diego Trao, morendo. Nei piccoli paesi c'è della gente che farebbe delle miglia per venire a portarvi la cattiva nuova. Una mattina la baronessa stava seduta all'ombra della stoia, sul balcone, imbastendo alcuni sacchi di canovaccio che Rosaria poi le cuciva alla meglio, accoccolata sullo scalino, aguzzando gli occhi e le labbra, perché l'ago non le sfuggisse dalle manacce ruvide, voltandosi di tanto in tanto a guardare giù nella stradicciuola deserta. E tre si lasciò scappare Rosaria vedendo Ciolla che ripassava con quella faccia da usciere, sbirciando la casa della baronessa da cima a fondo, fermandosi ogni due passi, tornando a voltarsi quasi ad aspettare che lo chiamassero. La rubiera, che seguiva da un pezzetto quel va e vieni di sotto gli occhiali, si chinò infine a fissare il Ciolla in certo modo che diceva chiaro che fate e che volete. Benedicite, cominciò ad attaccare discorso lui, e si fermò su due piedi, appoggiandosi al muro di rimpetto, col cappello sullo cipite e in mano il bastone che sembrava la canna dell'agrimensore, aspettando. La baronessa, per rispondere al saluto, gli domandò, facendo un sorrisetto agrodolce. Che fateli? Mi stimate la casa? Volete comprarla? Io no, io no, signora mia, io no, tornò a dire più forte, vedendo che lei si era rimessa a cucire. Allora la rubiera si chinò di nuovo verso la stradicciuola, con gli occhiali lucenti, ed entrambi rimasero a guardarsi un momento così, come due basilischi. Se volete dirmi qualche cosa, salite pure. Nulla, nulla, rispose Ciolla, e intanto s'avviava verso il portone. Rosaria tirò la funicella e si mise a borbottare, che vuole adesso quel cristiano? A momenti è ora d'accendere il fuoco. Ma intanto si udiva lo schiamazzo degli animali nel cortile e i passi di Ciolla che saliva ad agio ad agio. Egli entrò col cappello in testa, ossequioso, ripetendo Deo gratias, Deo gratias, lodando l'ordine che regnava dappertutto in quella casa. Non ne nascono più delle padrone di casa come voi, signora baronessa. Ecco, ecco, siete sempre lì a sciuparvi la vista sul lavoro. Ne hanno fatta della roba quelle mani. Non ne hanno scialacquata, no. La baronessa, che aspettava con l'orecchio teso, cominciò ad essere inquieta. Intanto Rosaria aveva sbarazzato una seggiola del canovaccio che vi era ammucchiato sopra e stava ad ascoltare, grattandosi il capo. Va a vedere se la gallina ha fatto l'uovo, disse la padrona, e tornò a discorrere col Ciolla, più affabile del consueto, per cavargli di bocca quel che aveva da dire. Ma Ciolla non si apriva ancora. Parlava del tempo, dell'annata, del fermento che aveva lasciato in paese la compagnia d'arme, dei guai che erano toccati a lui. I cenci vanno all'aria, signora mia, e chi ha fatto il danno, invece, se la passa liscia. Benedetta a voi che ve ne state in casa a badare ai vostri interessi. Fate bene, avete ragione. Tutto ciò che si vede qui è opera vostra. Non lo dico per lodarvi. Benedette le vostre mani. Vostro marito, buonanima, via, non parliamo dei morti. Le mani le aveva bucate, come tutti i rubiera, i fondi coperti di ipoteche e la casa. Infine, cos'era il palazzetto dei rubiera? Quelle cinque stanze lì? La baronessa fingeva da boccare alle lodi, dandogli le informazioni che voleva, accompagnandolo di stanza in stanza, spiegandogli dove erano stati aperti gli usci che mettevano in comunicazione il nuovo col vecchio. Ciolla seguitava a guardare intorno con gli occhi da uscire, accennando del capo, disegnando con la canna d'India. Per l'appunto, quelle cinque stanze lì, tutto il resto è roba vostra. Nessuno può metterci le unghie nella roba vostra finché campate. Dio ve la faccia godere cent'anni. Una casa come questa, una vera reggia, vasta quanto un convento. Sarebbe un peccato mortale se riuscissero a smembrarvela i vostri nemici. Che ne abbiamo tutti, nemici. Essa, che si sentiva impallidire, finse di mettersi a ridere. Una risata da fargli montare la mosca al naso a quell'altro. Cosa? Ho detto una minchioneria? Nemici ne abbiamo tutti. Mastro Don Gesualdo, esempi grazia. Quello non vorrei trovarmelo mischiato nei miei interessi. Fingeva anche lui di guardarsi intorno sospettoso, quasi vedesse dappertutto le mani lunghe di Mastro Don Gesualdo. Quello, se si è messo in testa di ficcarvi sì in casa, a poco a poco, da qui a cent'anni, come fa il riccio. La baronessa era tornata sul balcone a prendere aria, senza dargli retta, per cavargli di bocca il rimanente. Egli nicchiò ancora un poco, disponendosi ad andarsene, cavandosi il cappello per darvi una lisciatina, cercando la canna d'India che aveva in mano, scusandosi delle chiacchiere con le quali le aveva impito la testa sino a quell'ora. Che avete da fare, eh? Dovete vestirvi per andare al battesimo della figliuola di Don Gesualdo? Sarà un battesimo coi fiocchi, in casa Trao. Vedete dove va a ficcarsi il diavolo? Che la bambina di Mastro Don Gesualdo va proprio a nascere in casa Trao. Ci saranno tutti i parenti, una pace generale. Siete parenti anche voi. La baronessa continuava a ridere e Ciolla le teneva dietro, tutti e due guardandosi in viso, con gli occhi soli rimasti seri. No, non ci andate? Avete ragione. Guardatevi da quell'uomo, non vi dico altro. Vostro figlio è una bestia, non vi dico altro. Mio figlio ha la sua roba e Dio ho la mia. Se ha fatto delle sciocchezze, mio figlio pagherà se può pagare. Io no, però. Pagherà lui col fatto suo, con quelle cinque stanze che avete visto. Non altro, per disgrazia, ma io la mia roba me la tengo per me. Son contenta che mio figlio si diverta e giovane. Bisogna che si diverta, ma io non pago, no. Quello che dicono tutti, Mastro Don Gesualdo crede d'essere furbo, ma stavolta, semmai, ha trovato uno più furbo di lui. Sarebbe bella che gli mantenesse l'amante a Don Ninì. Gli parrebbe di fare le sue follie di gioventù anche lui. La baronessa, dal gran ridere, andava tenendosi ai mobili per non cadere. Ah, questa è bella, questa l'avete detta giusta, Don Roberto. Ciolla le andava dietro fingendo di ridere anche lui, spiandola di sottecchi, indispettito che se la prendesse così allegramente. Ma Rosaria, mentre veniva a pigliare la tela, vide la sua padrona così pallida che stava per chiamare aiuto. Bestia, cosa fai? Perché rimani lì impalata? Accompagna Don Roberto piuttosto. Così Ciolla si persuase ad andarsene finalmente, sfogandosi a brontolare con la serva. Come allegra la tua padrona. Ho piacere, sì, l'allegria fa buon sangue e fa vivere lungamente. Meglio, meglio. Rosaria, tornando di sopra, vide la padrona in uno stato spaventevole, frugando nei cassetti e negli armadi, con le mani che non trovavano nulla, gli occhi che non ci vedevano, la schiuma alla bocca, vestendosi in tutta fretta per andare al battesimo del cugino Motta. Sì, sì, ci andrò. Sentiremo cos'è, è meglio sapere la verità. La gente che la vedeva passare per le strade, trafelata e col cappellino di traverso, non sapeva che pensare. Nella piazzetta di Sant'Agata c'era una gran curiosità come giungevano gli invitati al battesimo in casa Trao e Don Luca il sagrestano che andava e veniva, coi candelieri e gli arnesi sacri sotto il braccio. Speranza ogni momento si affacciava sul ballatoio, scuotendo le sottane, piantandosi i pugni sui fianchi e si sbraitare contro quella bambina che le rubava l'eredità del fratello. Sarà un battesimo strepitoso, c'è la casa piena, tutta la nobiltà, noi soli no, non ci andremo per non fare arrossire i parenti nobili, non ci abbiamo che vedere noi, nessuno ci ha invitati al battesimo di mia nipote, si vede che non è sangue nostro. Anche il vecchio Motta si era rifiutato la mattina allorché Gesualdo era andato a pregarlo di mettere l'acqua santa alla nipotina, seduto a tavola stava mangiando un boccone, gli disse di no, levando in su il fiasco che aveva alla bocca, poi asciugandosi le labbra col dorso della mano, gli piantò addosso un'occhiataccia, vacci tu al battesimo della tua figliuola, è affar tuo, io non sono nato per stare fra i signoroni, voi altri venite a cercarmi soltanto quando avete bisogno di me, per chiudere la bocca alla gente, no, no, quando c'è da guadagnare qualcosa non vieni a cercarmi tu, lo sai, l'appalto della strada, la gabella. Mastro Nunzio voleva snocciolare la litania dei rimproveri intanto che ci si trovava, ma Gesualdo, il quale aveva già la casa piena di gente e sapeva che non gli avrebbe mai fatto chinare il capo se aveva detto di no, se ne andò con le spalle e il cuore grossi, non era allegro neppur lui, poveraccio, sebbene dovesse far boccaridente ai mirallegro e ai salamelecchi, però infine con Nanni Lorbo, più sfacciato, che gli rompeva le tasche chiedendogli i confetti a piede la scala, si sfogò, sì, va a vedere, va a vedere come se storta fin la trave del tetto, ora che è nata una bambina in questa casa. Barabba e il cacciatore della baronessa Mendola avevano dato una mano a scopare, a spolverare, a rimettere in gambe l'altare sconquassato, chiuso da tant'anni nell'armadio a muro della sala grande, che serviva di cappella. La sala stessa era ancora parata al lutto, qual era rimasta dopo la morte di Don Diego, coi ritratti velati e gli alveari coperti di drappo nero torno torno per i parenti venuti al funerale, come era l'uso nelle famiglie antiche. Don Ferdinando, raso di fresco, con un vestito nero del cugino zacco che gli si arrampicava alla schiena, andava ficcando il naso dappertutto col viso lungo, le braccia a ciondoloni dalle maniche troppo corte, inquieto, sospettoso, domandando a ciascuno, che c'è, cosa volete fare? Ecco vostro cognato, gli disse la zia Sganci entrando nella sala insieme a Don Gesualdo Motta, ora dovete abbracciarvi fra di voi e non tenere in corpo il malumore con quella creaturina che c'è di mezzo. Vi saluto, vi saluto, borbottò Don Ferdinando e gli voltò le spalle. Ma gli altri parenti che avevano più giudizio facevano buon viso a Don Gesualdo, Mendola, i cugini zacco, tutti quanti. Già i tempi erano mutati, il paese intero era stato sotto sopra 24 ore e non si sapeva quel che poteva capitare un giorno o l'altro. Oramai, per amore o per forza, Mastro Don Gesualdo s'era ficcato nel parentado e bisognava fare i conti con lui. Tutti perciò volevano vedere la bambina, un fiore, una rosa di maggio. La zia Rubiera abbracciava Bianca come una mamma che abbia ritrovata la sua creatura, asciugandosi gli occhi col fazzoletto diventato una spugna. «No, non ho peli sullo stomaco, non mi pareva vero dopo averti allevata come una figliuola. Sono una bestia, sono rimasta una contadina, tale e quale mia madre buonanima, col cuore in mano». Bianca, tutta adornata sotto il baldacchino del lettone, pallida che sembrava di cera, sbalordita da tutta quella ressa. Non sapeva a che rispondere, guardava la gente, stralumata, cercava di abbozzare qualche sorriso, balbettando. Suo marito, invece, faceva la sua parte in mezzo a tutti quegli amici e parenti e mirallegro, col viso aperto e giulivo, le spalle grosse e bonarie, l'orecchio teso a raccogliere i discorsi che si tenevano intorno a lui e dietro le sue spalle. La zia Cirmena, infatuata, rispondeva a coloro che auguravano la nascita di un bel maschiotto, più tardi, che già le femmine sono come la gramigna e vi scopano poi la casa del bello e del buono per andare a maritarsi. E i figliuoli bisogna pigliarseli come Dio li manda, maschi o femmine. Se si potesse andare a sceglierli al mercato, a Don Gesualdo non gli mancherebbero i denari per comprare il maschio. «Non me ne parlate», interruppe alla fine la zia Rubiera. «Non sapete quel che costino i maschi, quanti dispiaceri, lo so io!» E continuò a sfogarsi all'orecchio di Bianca, accesa, sbirciando di sottecchi Don Gesualdo per vedere quel che ne dicesse. Don Gesualdo non diceva nulla. Bianca, invece, con gli occhi chini, si faceva di mille colori. «Non lo riconosco più, no, nemmeno io che l'ho fatto. Ti rammenti che figliuol d'oro, docile, amoroso, ubbidiente. Adesso si rivolterebbe anche a sua madre per quella donnaccia forestiera, una commediante. La conosci? Dicono che ha i denti e i capelli finti. Deve avergli fatta qualche malia. Commediante e forestiera, capisci? Lui non ci vede più dagli occhi, spende l'osso del collo, la gente cattiva, i birboni che l'aiutano. Ma io non pago, no, oh, questo poi no! Zia, balbettò Bianca con tutto il sangue al viso. Che vuoi farci? È la mia croce. Se sapevo tanto piuttosto...» Don Gesualdo badava a chiacchierare col cugino zacco, tutti e due col cuore in mano, amiconi. La baronessa allora spiattellò la domanda che le bulliva dentro. «È vero che tuo marito gli presta dei denari, sottomano? L'hai visto venire qui, da lui? Dì, che ne sai?» «Certo, certo», rispose in quel punto Don Gesualdo. «I figliuoli bisogna pigliarseli come vengono». Zacco a conferma mostrò le sue ragazze, schierate in fila come tante canne d'organo, modeste e prosperose. «Ecco, io ho cinque figliuole e voglio bene a tutte egualmente». «Sicuro», rispose Elimoli, «è per questo che non volete maritarle». Donna Lavinia, la maggiore, volse indietro un'occhiata brutta. «Ah, siete qui», disse il barone, «siete sempre presente come il diavolo nelle litanie, voi». Il marchese, che doveva essere il padrino, si era messa alla croce di Malta. Don Luca venne a dire che il canonico era pronto e le signore passarono in sala con un gran fruscio di seta, dietro donna Marianna, la quale portava la bambina. Dall'uscio aperto vedevasi un brulichio di fiammelle. Don Ferdinando, in fondo al corridoio, fece capolino curioso. Bianca, dalla tenerezza, piangeva cheta cheta. Suo marito, che era rimasto ginocchioni, come gli aveva detto la Macri, col naso contro il muro, si alzò per calmarla. «Zitta, non ti far scorgere! Dinnanzi a coloro bisogna far buon viso!» Tutto a un tratto scoppiò giù in piazza un crepitio indiavolato di mortaretti. Don Ferdinando fuggì via, spaventato. Gli altri, che assistevano al battesimo, corsero al balcone coi ceri in mano, persino il canonico, in cotta e stola. Era santo il fratello di Don Gesualdo, il quale festeggiava a quel modo il battesimo della nipotina, scamiciato, carponi per terra, con la miccia accesa. Don Gesualdo aprì la finestra per dirgli un sacco di male parole. «Bestia! Ne fai sempre delle tue, bestia!» Gli amici lo calmarono. «Poveraccio, lasciatelo fare! È un modo d'esprimere la sua allegria!» La zia Sganci, trionfante, gli mise sulle braccia la figliuola. «Eccovi Isabella Trao! Motta e Trao! Isabella Motta e Trao!» corresse il marchese. Zacco soggiunse che era un innesto, le due famiglie che diventavano una sola. Però Don Gesualdo, tenendo la bambina sulle braccia, rimaneva alquanto imbroncito. Intanto Don Luca, aiutato da Barabba e dal cacciatore, serviva le granite e i dolci. La zia Cirmena, che aveva portato seco apposta il nipotino Lagurna, gli riempiva le tasche e il fazzoletto. Le zacco, invece, poiché la maggiore, contegnosa, non aveva preso nulla, dissero tutte di no una dopo l'altra, mangiandosi il vassoio con gli occhi. Don Luca incoraggiava a prendere, dicendo «è roba fresca, sono stato io stesso ad ordinarla Santa Maria e al collegio, non s'è guardato a spesa!» «Diavolo!» disse Zacco, che cercava l'occasione di mostrarsi amabile. «Diavolo, vorrei vedere anche questa!» Gli altri facevano coro. Ecco che risorgeva a casa Trao, voleri di Dio, quella bambina stessa che aveva voluto nascere nella casa materna. Il canonico Lupi arrivò anche a congratularsi col marchese Limoli, il quale aveva pensato al mezzo di non lasciare estinguere il casato alla morte di Don Ferdinando. «Sicuro, sicuro», borbottò Don Gesualdo, «era già inteso, l'avevo detto di sì allora, quando ho detto una parola». E andò a deporre la figliuola fra le braccia della moglie che le zie si rubavano a vicenda. La baronessa Mendola voleva sapere cosa dicessero. Zacco, premuroso, venne a chiedere dei confetti per Don Ferdinando, a cui nessuno aveva pensato. «Sicuro, sicuro, è il padrone di casa!» «Vedete», osservò la zia Rubiera, «a quest'ora c'è già per il mondo chi deve portarvi via la figliuola e la roba». Scoppiarono delle risate. Donna Agrippina torse la bocca e chinò a terra gli occhioni che dicevano tante cose, quasi avesse udito un'indecenza. Don Gesualdo rideva anche lui, faceva buon viso a tutti. Alla fine arrischiò anche una barzelletta. «E quando si marita vi lascia anche il nome dei trao, la dote no, non ve la lascia».